La casa giapponese con diverse novità. Abbiamo un display da 5.25 pollici, full HD, TFT come tecnologia, che supera i 400ppi come densità di pixel. Abbiamo anche tutta una nuova interfaccia con nuove animazioni e nuovi menu. Come potete vedere, scorrendo a sinistra con lo slide del drawer, abbiamo tutta una nuova serie di scorciatoie, le più usate, Ordina, Play Store, Sony Select, la possibilità di disinstallare, eccetera. Abbiamo inoltre il nuovo Snapdragon 801 spinto a 2.3 GHz e abbiamo i soliti 2 GB di RAM. Abbiamo inoltre una fotocamera posteriore da ben 20.7 megapixel, assolutamente un sensore della stessa Sony. E' un design che non si discosta troppo dallo Z1 precedente. Come potete vedere abbiamo linee leggermente più morbide sui lati con i bordi smussati. Presto dovrebbe arrivare anche in Italia ad un prezzo che dovrebbe girarsi dai 500 ai 699 euro. Per il resto abbiamo anche un nuovo dialer che si sposa molto da vicino con il dialer del Android 4.4. Abbiamo inoltre alcune applicazioni preinstallate come la radio FM, il track ID e tutta una serie live log che ci permette di utilizzare anche il nuovo accessorio di Sony che vedremo successivamente. e tutta un'altra serie di applicazioni. Abbiamo anche un'animazione, come potete vedere, dello sfondo sensibile al nostro movimento. Però il momento è tutto, vi rimandiamo poi alla nostra futura video recensione. Abbiamo in Abu Dhabi a Nokia World 2013 e abbiamo parlato di questo per anni fa, e qui è l'inizio. Questo è il primo Windows Phone Fabletto. Questo è il nuovo Nokia Lumia 1520, che ha con un prezzo full HD 6-inch display. E' un'quadcom Snapdragon 800, che ha anche fatto il primo quad-core Windows Phone in the world. Sposti 2 GB di RAM e 32 GB di storage, che si può usare anche con un microSD card. Allora, let's take a quick look around the device. First of all, what you notice is, this kind of classic Lumia design, that we've been using with the very first Nokia Lumia 800, about like two years ago, right? Of course, it's been kind of evolving. So, we have a volume rocker here on the side, that's the power button, and that's the camera button here. On the bottom we have a micro USB connector, and over here we have the slots for the SIM cards, and for the microSD cards, while on the top we have a jack for your headset. What you also might have noticed here, is on the back we have a PureView camera. So, this is a 20 megapixel PureView, which is going to support some amazing picture taking and great image qualities. We've been seeing some of them over here, during the Nokia World Keynote, and it was absolutely amazing, especially when we're looking at other tablets that are available on the market. This is the white version, well obviously, it weighs 207 grams. Actually, you know what, it feels quite light-weighted, if I compare this, for example, to an HTC One Max or an Xperia Z Ultra from Sony, which is basically because of the materials that they're using, and it feels very, very compact. So, this is the white version, there will be also a black version, that's the one over here, which has more of a kind of matte finish. Well, sorry about that, both are matte, obviously, and both are absolutely stunning. I'm coming with the latest version of Windows Phone. What they also introduced with the Lumia 1520s, as you can see, they basically came up with a third column for Windows Phone. So, the UI changed slightly, to take advantage of this additional screen real estate of the Nokia Lumia 1520s. So, what about availability? It's coming out later in Q4, and it's going to cost $749 before taxes. It's starting in, I think it was Hong Kong, Singapore, and in the US, and this is definitely an absolutely beautiful fellow. So, what is the purpose of this lens? The Helene 1520s, is the Helene 1520s. So, what are you now looking at the Celene 1520s? You should say, that's all you have to do, so you have to do. What do you have to do with that? So, what do you have to do with that? So, I totally do.